Gloria, sì. Che cibo più non tocca, è sempre questa storia, che lei la chiamo Gloria, Gloria sui tuoi cerchi, la mattina nasce il sole, entra odio e nasce amore, al nome Gloria. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come il sale, manchi più del sole, sciogli questa neve, soffoca il mio petto, ti aspetto Gloria. Gloria, chiesa di campagna, acqua nel deserto, lascio aperto il cuore, scappa senza far rumore, al lavoro dal suo letto, ai credini di un altare, ti aspetto Gloria. Gloria. Ci voleva, Gloria. Ci voleva, ci voleva, Gloria. Questo tempo di festeggiamenti un po'. Sì, sì, è vero, bravo, bravo Antonello. Intanto sono arrivati tantissimi WhatsApp, io ve ne leggo giusto qualcuno, perché meritano. Salve a tutti, ecco qui, allora, non si riesce più ad aprire. Io intanto vorrei salutare la nonna Olga e Consiglia, che sono all'ascolto. Ciao. Facciamo un saluto. Olga e Consiglia. Sì, sì. Ecco qui, salve a tutti, tantissimi saluti anche dalle tue fans di Palestrina. Ah, Palestrina. Ciao, palestrini. Hai visto? Che non è Palestina, non è la Palestina, ma è vicino Roma. Ciao a tutti, ciao. Chi sono, chi sono? Facciamo nove, no? Ci sono? Aspetta. Sì, tanto io sono qua. Finiamo alle sette. Anche. Oh, va bene, va bene. Poi c'è Giacomo, che va bene, mi fa tanti complimenti, quindi grazie tante Giacomo, e poi dopo magari ne leggiamo degli altri, perché vedo che ci sono già prontissimi gli ospiti.